E' un 24enne egiziano, Ahmed Youssef, da tempo in Italia, residente a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, la 33esima vittima sul lavoro in Toscana del 2023. Indagano i carabinieri di Poggi Bonzi e la procura di Siena su quanto accaduto ieri pomeriggio all'interno della società agricola Bertinga, a Gaiola e Inchianti. Erano le 17 quando il giovane muratore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un'impalcatura mentre riparava un solaio, un volo di una decina di metri, ma la dinamica è ancora da accertare, l'ennesimo incidente letale nel settore dell'edilizia. Perché è un settore dove si opera in una condizione di illegalità diffusa e non si vuole capire quanto sia importante regolamentare la catena degli appalti e dei subappalti. Inutile l'intervento di 118, ambulanze e Pegaso, nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. L'incidente è avvenuto all'interno del cantiere per l'ampliamento di cantine e abitazione rurale della nota società agricola produttrice di vino. Lavori iniziati nel febbraio 2021 e che, stando al cartello esposto all'ingresso dell'area, vedevano impegnate sei ditte e una ventina di operai in tutto, sconvolta la comunità gaiolese. È vero che non è un ragazzo che viveva qui abitualmente, però è anche vero che questa è una piccolissima comunità, un piccolo paese, una comunità vera mi viene da dire più che altro, Gaiolo in Chianti, dove chi arriva anche solo per lavoro, anche per qualche giorno, entra tre volte in piazza, poi alla fine attiva dei rapporti umani che sono naturali in un piccolo paese.